Quando ho iniziato questo viaggio, sapevo poche cose sull'Alzheimer. Sapevo che è una malattia crudele, misteriosa e legata alla perdita della memoria. E l'unico modo che conoscevo per fare in modo che la memoria non svanisse, è il cinema. Cosa vuol dire accudire un malato di Alzheimer? Amare. È terrificante avere tua moglie qua, che non ti conosce più. La persona che hai amato, tutto sto tempo, tutti sti anni. Lei ti riconosce adesso? Ho sempre pensato che un malato di Alzheimer fosse quello che non si ricordava dove fossero le chiavi. Adesso sto capendo che è quello che non sa più a che cosa servono le chiavi. Magari io non so perché ti voglio bene, perché non ti riconosco, ma la parte affettiva rimane. Sto facendo un viaggio bellissimo e doloroso. Sto capendo la differenza tra curare e guarire. Un malato di Alzheimer è stonato rispetto alla vita, ma è come se volesse tenersi stretta una nota sola. Il malato ha capito che l'obiettivo non è vivere, è amare. Perdutamente. Ti ricorderai di me? Mio. Mio. Mio.